un secondo croccante veloce e gustoso prendi una piadina io l'ho presa integrale fai un cono e mettici uno stuzzicadenti falla friggere in olio e lo scoli su un cono di carta assorbente a parte sbatti un uovo con un pizzico di sale prendi delle sovraccosce di pollo le passi prima nella farina e poi nell'uovo dopodiché nel pangrattato e pressa bene friggere in olio ben caldo e scola lì su carta assorbente poi tagliali a fettine dopodiché togli lo stuzzicadenti dai coni io io riempiti con dell'insalatina e dei pomodorini gialli poi disponi il pollo una salsa a piacere io ho messo della maionese fatta in casa che trovi tra le mie ricette poi aggiungi anche dei pomodorini ho messo quelli gialli e qualche foglia di insalata ed il piatto è pronto per essere gustato lo puoi mangiare così com'è o disporre in un piatto e questo è il risultato davvero davvero eccezionale e soprattutto croccantissimo